Ambizione, voglia di ripartire. Sono queste le due parole chiave di una solbiatese che è tornata ad allenarsi. Ambizione perché è difficile nascondersi quando il mercato ti porta attaccanti come Anzano, Scapinello o semplicemente difensori come Pacifico e Novello. Ambizioni rappresentate anche dalla parte politica di Solbiate. Ecco per esempio le parole del sindaco e super tifoso Oreste Battiston e del suo assessore allo sport Andrea Bottelli. Le aspettative sono alte anche perché la società ha allestito una squadra molto competitiva per la categoria. Di conseguenza ci aspettiamo di fare un campionato da protagonisti sperando di poterlo vincere e di festeggiare quello che non siamo riusciti a fare l'anno scorso perché il campionato ha avuto per problemi che tutti conosciamo una chiusura diciamo anticipata. Invece con l'assessore parliamo di quanto è stato importante il ritorno di una squadra a Solbiate dopo anni di assenza. Sicuramente il paese ne aveva voglia perché il passato di questo stadio qua è presente in tutti i cuori di noi solbiatesi. Quindi finalmente, già l'anno scorso ma finalmente quest'anno speriamo di poter festeggiare alla fine in maniera completa la fine del campionato. Io, ripeto, il paese ne aveva voglia e la stessa amministrazione è a completa disposizione di questa squadra. Sono previsti degli ammodernamenti dello stadio grazie anche ad un bando che il credito sportivo mette a disposizione. Quindi sicuramente il paese sta aspettando di vedere una grande solbiatese. Vengono un po' i brividi a pensare ai bei tempi di una volta. A contare però il risultato del campo. Ecco per esempio le parole di Jacopo Catanese, capitano della solbiatese. È un piacere ricominciare. Veramente non vedevamo l'ora tutti. Io e i miei compagni aspettavamo questo giorno perché sette mesi fermi sono veramente tanti. La voglia di rincominciare c'è. C'è la voglia di rincominciare, di fare bene, di aver fretta di mettere su una squadra compatta perché comunque ricordiamoci che siamo una squadra quasi tutta nuova. Le menti dell'anno scorso non ne sono rimasti tantissimi. Quindi dobbiamo essere bravi ad essere squadra fin da subito per portare a casa subito le prime partite e mettere il campionato nella giusta direzione. Tra l'altro domanda che non ti potevi aspettare, obiettivi stagionali? Obiettivi stagionali miei, personali o... No, della squadra sicuramente non bisogna nascondersi, è vincere il campionato, fare bene, a partire anche dall'impegno della Coppa, alle amichevoli che ci sono prima. Ripeto, per essere squadra bisogna partire da subito, dalle amichevoli alla partita di Coppa, alla prima di campionato e andare avanti. L'obiettivo personale è sempre lo stesso, prendere sempre meno gol dell'anno passato. Per raggiungere l'obiettivo dell'eccellenza è stata allestita una squadra sicuramente importante e il merito è soprattutto del direttore sportivo Mirko Barban. Ecco le sue parole. La scorsa stagione mi dicevi che dopo quel campionato non avreste fatto fatica comunque ad allestire una squadra, visti i risultati, effettivamente avete fatto un mercato sicuramente maiuscolo. Sì, in effetti è stato proprio così, nel senso che l'anno scorso mi ha fatto veramente la fatica a convincere i giocatori a venire assolbiati in prima categoria, nonostante il blasone del nome. Poi eravamo appena ripartiti, quindi c'era anche un po' di titubanza, un po' di scetticismo nei nostri confronti. Abbiamo dimostrato invece che quello che dicevamo erano i fatti veri e così quest'anno è stato molto più facile. L'obiettivo è chiaro, tutti lo ripetono. A livello invece di Rosa, rispetto a quella dell'anno scorso, che formazione hai allestito secondo te? Già l'anno scorso era molto competitiva, infatti a me dispiace che molti giocatori non abbiano potuto sposare ancora il nostro progetto, vuoi per gli orari, vuoi per altre scelte calcistiche. Comunque ritengo che ci siamo rinforzati parecchio. Abbiamo rinforzato la difesa, abbiamo preso giocatori di categoria superiore, di Pacifico, Zecchin, lo stesso Novello che arriva dall'asse stese. Poi abbiamo confermato Catanese che ha sposato subito il nostro progetto senza chiedere nulla. Anche lì abbiamo rivoluziato un po' il centrocampo, l'abbiamo ringiovanito un attimino. Abbiamo preso Oliera che è un giocatore che già l'anno scorso volevamo prendere ma aveva già firmato per un'altra società. E davanti abbiamo preso Anzano che già era uno dei nostri sogni l'anno scorso, non è stato utilizzato perché anche lui aveva già preso degli accordi con altre società. Quest'anno invece siamo riusciti a portarlo a casa con lui, con Scappinello. E la conferma di Giardino che secondo me è stato veramente l'acquisto di dicembre che ci ha fatto fare il salto in qualità. Mentre la Sorbiatese alle mie spalle continua ad allenarsi, io vi ricordo che per rimanere aggiornate su tutte le novità del nostro calciomercato